Esserci, perché sia una festa a testa alta. Lo slogan è questo. Domani, Stadio Tardini, ore 15. È il giorno del congedo del Parma dalla Serie A, dopo la più disgraziata stagione della sua storia, ma i tifosi più affezionati ci saranno per lanciare un ultimo applauso a questa squadra, massacrata dai suoi stessi dirigenti, affossata da una gestione economica scellerata e scaraventata nel baratro di una retrocessione, non già e non solo per demeriti sportivi, quanto per l'incapacità totale di chi avrebbe dovuto assicurare stabilità finanziaria e decoro. Quel decoro che giocatori e tecnici hanno saputo comunque mantenere, nonostante tutto, esserci affinché sia una festa di quelle che il popolo crociato, tifosi, giocatori, da sempre sanno celebrare e consumare. Insomma, un grande abbraccio finale, in attesa che il destino del club si compia definitivamente. Giovedì prossimo l'ultima asta per la vendita del club e la speranza che il prossimo campionato sia quello di Serie B. Il Parma si è allenato questa mattina al centro sportivo di Collecchio, rifinitura per tutti, tranne che per i tre infortunati Baizza, Costa e Santa Croce, che hanno proseguito con i propri programmi differenziati. Domani tornerà invece a disposizione l'albanese Lila, che ha scontato la giornata disqualifica, che potrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio al talento italo-argentino Mauri, ormai vicinissimo al Milan. Nel Verona recuperi importanti per Mandorlini, che per la sfida di domani potrà contare sia su Taksidis che su Jankovic, quest'ultimo destinato a giocare titolare nel terzetto offensivo insieme a Tony e alla sorpresa Fernandinho. Appuntamento domani alle 15 al Tardini, esserci perché sia una festa a testa alta.